Ciao, benvenuti in questo video. Oggi ti voglio parlare di una cosa importantissima e spero di ricordarmi di caricare su tutti i social questo video perché poi va a finire che lo lascio solo su Instagram magari e tante altre persone che mi seguono sui dati canali non lo vedono quindi se non ti sei ancora iscritta o iscritto sul mio TikTok, se non vai a leggere il mio blog su babysite.com magari fallo perché trovi dei contenuti che non hai visto ancora. Allora oggi voglio parlare di una cosa fantastica che ultimamente sto facendo sempre più spesso le mie clienti allora chiariamo una cosa, non amo tanto schiarire i capelli anche se me li sono schiariti ma semplicemente perché posso sempre avere problemi di allergia con alcuni prodotti chimici anche se ultimamente questo schiarente qua ha problemi proprio non me ne dà perché sfrutto una molecola evidentemente un agente schiarente che a me problemi non dà né più né meno torniamo a noi, non amo molto schiarire i capelli perché poi il capello quando viene schiarito non è più bello come quando era solo colorato con le erbe tintorie. Ho scoperto una metodologia che voglio condividere sì con i miei clienti su quelle persone che mi seguono ma anche magari con qualche professionista che mi sta ascoltando una cosa importantissima da tenere in considerazione è che quando vado a schiarire il capello parte della corteccia esterna se ne va a quel paese né più né meno sebbene noi utilizziamo un prodotto leggero, sebbene noi utilizziamo un prodotto che non contiene ammoniaca sebbene utilizziamo un prodotto che contiene degli oli amorbidenti, invibenti, protettivi tutto quello che vogliamo comunque né più né meno una parte della corteccia esterna se ne va a quel paese si rovina, si rompe, se poi lasciamo sul prodotto schiarire troppo tempo, quella che è parte della corteccia interna si sa si deteriora perché quando il colorante o lo schiarire, chiamiamolo come la mia voglia va a rompere la melanina e a toglierla, purtroppo quello che a volte ne va a intaccare, ne va a pagare le spese sono le fibre all'interno del capello perché il parrucchiere a volte vuole portarlo bianco o molto chiaro e quindi non sa che più di tanto non la si fa, il giallo che si vede è quello delle fibre interne dello stelo e quindi di conseguenza rimane deteriorato il capello, le giorni della stagione, perdonatemi, né più né meno ho scoperto una cosa importante, se vado ad applicare un trattamento erboreo, una pastella vegetale stratificante quindi utilizzando delle piante più comuni, come posso essere quella la cassia borata piuttosto che le nera, la osonine armis, posso andare a ricreare uno strato iperprotettivo perché molecolarmente parlando, questi gruppi cromofoli, questi fitocomplessi vanno attaccarsi estremamente al capello ma lasciano uno spazio di azione alle squame, quindi le squame si appono e si chiudono normalmente per cui né più né meno, se il capello non è fortemente stratificato, la gente alcalino e comunque quello schiarente riescono ad entrare lo stesso nello stelo, quindi lo schiariscono, non tantissimo ma lo schiariscono si possono ottenere dei toni aranciati e ramati che sono fantastici, quindi ricordiamoci che se schiagliamo delle erbe rosse il risultato sarà di averli ancora più rossi in questi capelli, vedete me, faccio da tanti anni legne schiarendomi con il decolorante è uscito una decolorazione ramata, molto chiara questo lo possiamo andare a ottenere con estrema tranquillità senza rovinare i capelli come puoi vedere in queste foto che adesso vi vado ad allegare e che a me piacciono tantissimo e vi spiegherò che cosa ho fatto spero che ti sia piaciuto, voglio parlare singolarmente a ogni persona, non più al plurale prometto che dirò né più né meno qualche volta in meno all'interno dei video vabbè grazie per avermi seguito e spero che sia simpatico da vedere per tutti voi e spero che anche a te che mi segui ti sia piaciuto, ciao questo è il risultato finale della nostra carissima amica Sandra come puoi vedere l'effetto è veramente caldo ma la punta è sul serio tanto tanto lucida e qui la vedi come era prima, un capello naturale al quale ho fatto una passata di semplice lausogna e nermis insieme alla cassio bovata di un temposo a circa 50 minuti questo con le mie schiariture da coricato sulla vatessa tailandese l'effetto finale devo dire è sorprendente perché le squame sono perfettamente chiuse ha tenuto benissimo il mosso senza neanche una punta crespa beh guarda che lucentezza allora direi che è approvato grazie a tutti grazie a tutti